Oh, certo, certo. Tipo, ecco come Bill Gates è diventato ricco, toglieva le porte dai cardini. E tutti vogliono una scocciatoia nella vita. Il mio libro guida è molto semplice. Vuoi perdere peso? Piantala di mangiare, ciccione. Vuoi fare più soldi? Mettiti a lavorare anche di notte. Vuoi essere felice? Trova qualcuno da amare e non lo lasciare andare. O qualcuna, se hai questa turpe tendenza.